In fondo si può dire che tutto questo lo avete voluto voi. Avremmo dovuto sempre saperlo che oggetti così potenti come quelle sfere avessero un'instabilità così sensibile. Quindi è tutta colpa mia? No Goku, è tutta colpa nostra. VEGA, ma che diavolo ci fai qui? Accidenti Shark, vuoi smetterla di interferire? Stai solo peggiorando le cose. Ma che cosa sta succedendo? Sono X-Warriors, guerrieri troppo potenti segnati dal destino. Non potete batterli, è tutto in un. Ma che cosa fai? Ma che cosa fai, Tsai Lagu? Sicuro di essere della parte giusta? Più che sicuro. Vi prego, dovete aiutarci. Gli dèi non possono interferire. Ma conosciamo qualcuno. Viene dal sesto universo. Come puoi vedere, ci siamo fatti degli amici. Non sarete mai in grado di vincere questa battaglia. Ahahahahahahahahaha! Ogni sabato, ore 16 dal 2017. Primi due episodi in atteprima il 31 dicembre. Urca! Grazie Shark! Solo sul canale YouTube, Universum Entertainment Moving! Grazie a tutti!